I saperi dell'ingegneria si mettono sempre più a disposizione di quelle scienze applicate che necessitano di innovazione tecnologica e di saperi tecnologici spinti. Tanti sono i campi di applicazione che vedono l'ingegneria protagonista e a supporto delle altre discipline scientifiche. Pensiamo al tema dei nuovi materiali, in particolare i nanomateriali, pensiamo a tutto il tema della robotica di servizio, dei big data e della data analysis, pensiamo a tutte le nuove frontiere legate all'advance e all'additive manufacturing, fino ad arrivare alle nuove tecniche di visualizzazione che soprattutto nel campo medico stanno oggi consentendo di raggiungere delle frontiere che fino a poco tempo fa sembravano di fatto inesplorabili. La distanza tra le discipline scientifiche si sta oggigiorno riducendo sempre più. Infatti, per risolvere la complessità dei problemi che la società ci sta ponendo, è necessario che le diverse discipline possano lavorare in piattaforme comuni multidisciplinari, dove la contaminazione, la fertilizzazione tra le diverse discipline diventa fattore fondamentale per la risoluzione dei problemi della nostra società. Portare i temi della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica ad un pubblico sempre più ampio e oggi basilare per consentire alle nuove tecnologie di penetrare il mercato e penetrare anche la vita di tutti i giorni. In questo contesto l'iniziativa di Just The Woman I Am è fondamentale, perché Just The Woman I Am è una grande cassa di risonanza che consente di riportare questo messaggio a tantissime persone e a creare quindi una consapevolezza sociale intorno a delle tematiche che saranno fondamentali non solo oggi, ma in generale per il futuro della nostra collettività.